dicevo la diatriba goi ctr che loro danno delle informazioni non accettavano il termine guerra quindi loro dicevano di avere questi contrasti con un gruppo di extraterrestri che erano adoratori della scienza e del potere persone fredde che pur di arrivare al loro scopo potevano anche uccidere e dicevano i ctr sono stati sconfitti nell'universo ma sono esiliati sulla terra il nostro timore è che gli umani diventino come i ctr quindi c'è il gruppo degli amici che vuole instillare nell'uomo il bene comune e il gruppo dei contrari che vuole instillare nell'uomo l'uso della scienza a fini di potere freddamente anche attraverso l'omicidio e dicevano noi temiamo che i terrestri diventino come i ctr ora siccome io so che non esistono gli alieni negativi praticamente la mia deduzione che loro hanno definito in questo modo la legione di lucifero perché lucifero e suoi angeli caduti vengono da un altro pianeta ma non possono viaggiare nel cosmo perché dio li ha maledetti e li ha esiliati qui e sono i tentatori dell'umanità e sono presenti anche in forma fisica anzi direi di più oggi i capi dell'umanità sono soprattutto gli angeli di lucifero coi loro collaboratori